Va ora in onda, Radio Speranza Notizie. A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, alla microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, penne che trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi è mercoledì 22 gennaio e nella diocesi di Sulmona Valva si celebra la memoria facoltativa di San Domenico Abate. Metodisti, Battisti, Cattolici, Ortodossi si sono uniti in preghiera ieri sera nella chiesa dello Spirito Santo in Pescara per la preghiera ecumenica svoltasi nell'ambito della settimana per l'unità dei cristiani. Nutrita la partecipazione dei fedeli al momento celebrativo nel quale i rappresentanti delle varie chiese cristiane si sono alternati nel commentare i brani biblici che sono stati proclamati durante la celebrazione e ci sono stati momenti musicali legati alle diverse tradizioni religiose. Venerdì alle 21 sempre presso la chiesa dello Spirito Santo in Pescara ci sarà la preghiera ecumenica animata dalla comunità di Tese e durante la nostra rubrica servizi e interviste in onda oggi alle 18.13 e domani alle 7.35 parleremo proprio di questa preghiera ecumenica. Ieri è morto alle 7.30 padre Salvatore Ugenti a Migognano provinciale rettore della chiesa di Sant'Ireneo in Catignano. Il sacerdote aveva scoperto di essere malato nel periodo natalizio dopo gli accertamenti all'ospedale civile di Pescara è stato trasferito in San Giovanni Rotondo prima nella casa di cura locale e negli ultimi giorni nel convento di Sant'Onofrio. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Sant'Onofrio in San Giovanni Rotondo. Celebrerà il rito funebre Monsignor Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo. 14 comuni abruzzesi in quattro zone distinte con una prevalenza tumorale significativamente più elevata della media regionale. Si tratta del comune dell'Aquila, del litorale dell'area metropolitana di Pescara, dei comuni di Bussi, Sul Tirino e Popoli e di una parte dell'entroterra marsicano. Il dato emerge da un report che è stato realizzato nel 2012 e che l'agenzia sanitaria regionale avrebbe commissariato a quattro esperti. E oggi sarà depositata in consiglio regionale un'interrogazione di rifondazione comunista che chiede al presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, di riferire in aula dicendo cosa intende fare dopo la pubblicazione dell'analisi prevalenza tumori resa nota dal forum abruzzese dei movimenti per l'acqua e realizzata dall'agenzia regionale sanitaria. E' stato prorogato al 17 febbraio il termine ultimo per presentare le domande che riguardano il bando obiettivo turismo. Lo rende noto l'assessore al turismo della regione Abruzzo, Mauro Di Dalmazio, dopo l'approvazione in giunta regionale della delibera di proroga. L'avviso pubblico di obiettivo turismo si intitola Selezione e il funzionamento a fondo perduto di iniziative legate all'incentivazione e sviluppo di servizi turistici. Il presidente di Confartigianato Trasporti Abruzzo, Gabriele Sillari, interviene di nuovo sulla polemica che riguarda l'aumento dei pedaggi per le autostrade. Abbassando i pedaggi a chi percorre l'autostrada da e per l'Abruzzo e aumentandoli per chi percorre le complanarie ed esce al casello del tratto urbano della A24 sino al casello di Tivoli, si otterrebbe lo stesso risultato a saldi invariati, scrive in una nota. Un 2013 trascorso all'insegna della prevenzione della cultura della sicurezza che si è chiuso con un calo drastico degli incidenti stradali 676 a fronte dei 717 del 2012 e degli 848 del 2011 e delle multe alle violazioni al codice della strada solo 50.237 contro le 55.000 sanzioni combinate nel 2012 e le 66.106 multe del 2011 un numero comunque rilevante più delle sanzioni combinate dai comuni di Chieti, Teramo e L'Aquila messi tutti insieme e il bilancio tracciato dall'assessore al commercio del comune di Pescara Gianni Santilli Sono partiti ieri i lavori di riqualificazione di via Rigopiano a due passi dal centro cittadino di Pescara e dall'ospedale civile L'intervento, compreso nel maxi appalto che prevede il rifacimento di 15 strade della città e aggiudicato per circa 600.000 euro è partito nel tratto compreso tra via Paolucci e via del Santuario con la scarifica dell'asfalto Per ora non è stato necessario vietare il traffico lungo la strada consentendo quindi un senso unico alternato Stamattina è previsto il rifacimento del nuovo tappetino d'asfalto e tra circa 10 giorni il rifacimento della segnaletica Bonifica straordinaria oggi e domani in via Piave a Pescara in piena isola pedonale I mezzi dell'attiva a partire dalle 6.30 stanno partendo con il lavaggio della sede stradale la pulizia degli spazi verdi e la disinfezione di tutti gli angoli Le operazioni si concluderanno nelle due giornate entro le 17 cercando di non interferire con le normali attività della giornata Istituire il museo del tesoro di San Panfilo da realizzare nei locali della cripta della Madonna del Popolo oggi edibiti a deposito della locale Caritas e la proposta che sarà ufficializzata in occasione dell'incontro tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presso la sala consigliare del comune di Spoltore oggi alle 16.30 Una discussione ad ampio raggio scrive non comunicato l'associazione Fontevecchia su quello che è un vero e proprio patrimonio artistico dell'intera città spesso poco conosciuto e in qualche caso anche poco curato Il prossimo sabato 25 gennaio alle ore 16 presso la sala consigliare della provincia di Chieti in corso Marruccino 97 ci sarà il convegno Nuovi Scenari di un'economia che cambia Lo rende noto il consigliere comunale Teatino con delega alle politiche giovanili Stefano Rispoli Il convegno di Chieti verdrà la partecipazione degli esperti dell'associazione culturale Network Academy durante il quale i lavori dell'associazione analizzeranno il fenomeno della New Economy e le opportunità imprenditoriali ad essa collegate Giobbe, l'esperienza del dolore questo è il tema che sarà affrontato dal 31 gennaio al 2 febbraio nell'ambito degli incontri organizzati dalla pastorale della famiglia dell'Arcidiocesi di Pescara Penne nell'ambito delle proposte 2013-2014 sul tema L'amore si costruisce e siamo con questo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e Provincia si prevedono piogge schiarite al mattino pioggia nel primo pomeriggio pioggia debole nel tardo pomeriggio e cielo poco nuvoloso in serata con temperature da 9 a 13,5 gradi e 20 deboli era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne trasmette sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza da Massimiliano Spiriticchio alla microfono Natascia alla console e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie e a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica a cura della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne